Noi abbiamo sostanzialmente oggi avuto la possibilità di sentire un rappresentante del Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica che ha promesso che la strategia italiana sarà una strategia meditata, strategia idrogeno, sarà meditata, pensata e realistica. Anche perché stiamo pensando di costruire un vettore energetico, non è una fonte energetica qualunque come possono essere fonti rinnovabili, fossili, ormai in declino nucleare, quelle sono fonti ma trattasi di costruire un'intera filiera, un'intera catena del valore di una commodity che come quella dell'idrogeno è molto simile a quella dell'elettricità e quindi ci sono tutti degli aspetti di complessità, bisogna partire dalla domanda, dall'esigenza di questa nuova filiera e passare attraverso le infrastrutture e anche alla produzione. Quindi un lavoro molto difficile e speriamo che il Ministero italiano dia una strategia degna di un paese manifatturiero e trasformativo come l'Italia.